la serie il doc mangia proteico oggi andiamo a provare i feel good proteine ho già provato in realtà un altro di questa linea che era la crema chantilly ma che cos'è sta roba? è yogurt, yogurt magro, in questo caso è yogurt magro al caffè però se non ci scriviamo proteine grosso così non se lo fila nessuno perché comprare lo yogurt normale quando puoi comprare lo yogurt dove c'è scritto proteine perché c'è un'altra cosa no invece la stessa cosa è semplicemente dello yogurt aromatizzato in questo caso al caffè quello che avevo preso l'altra volta era la crema chantilly era semplicemente un sapore yogurt dolcificato quindi il marketing va così ma il marketing va così perché comunque siete voi che fate la spesa che voi che comprate questi prodotti ok io l'ho comprato per fare la prova però se io mangio lo yogurt normale quello bianco però va così e va così non dovrebbe andare così però intanto va così quindi tutto proteico perché proteico è meglio se non è proteico non vale la pena mangiarlo e in questo caso non c'è niente di proteico, è un yogurt comunissimo qualunque semplicemente se abbiamo scritto proteine grosso così per attirare attenzione vediamo se vale la pena però almeno il gusto questo questo è al caffè è molto cremoso non è yogurt greco semplicemente c'è un addensante dentro andiamo a vedere e io butto al caffè